Se si dovesse rialzare e andare a spegnere, fa tutto da solo per 30 secondi, spia che l'amicina per 30 secondi, come no, vieni anche te, vieni anche te, vieni, 30 secondi, quando sono passati, ma se non si conta, quanto e quanto deve durare? No, si ti rompe da sé, come fai a vederlo?